Musica Musica Mesi di chiusure, di relazioni interrotte, hanno pesato su ognuno di noi. C'è voglia di uscire, di respirare, ma questa epidemia ha cambiato il mondo, la gerarchia dei valori, la sensibilità delle persone e non potrà essere messa tra parentesi ma ci obbliga a qualche riflessione più di fondo. Sono le parole del Presidente della Regione Campani, Vincenzo De Luca, che auspica ancora rigore perché il rischio è dietro l'angolo. Occorre abituarsi a pensare che nulla potrà tornare puramente e semplicemente come era prima, aggiunge De Luca. Conviene allora pensare a forme di socializzazione all'insegna non più di una massificazione alienante ma di una umanizzazione delle relazioni, di un rapporto più attento con l'ambiente, di una riscoperta dei valori di solidarietà. In questi anni abbiamo visto affermarsi troppo spesso un moto di incontri tra i giovani segnali da uso di superalcolici, a volte droghe, al punto da perdere la stessa possibilità di comunicare, di parlarsi, di ascoltarsi. C'è da augurarsi che i problemi di questi giorni siano anche per tutti un'occasione per riscoprire modi di incontri e di divertimento più semplicemente umani. Detto questo, di fronte alle immagini notturne di violenza e di vandalismo che nulla ha a che fare con gli incontri giovanili, non riemerga il volto dell'Italia del fare finta. Lo Stato ha l'autorità e il dovere di imporre il rispetto delle regole e di garantire le norme di sicurezza. L'emergenza sanitaria ha scompaginato gli equilibri politici e rimesso tutto in discussione i vari schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali. Se da un lato il governatore uscente Vincenzo De Luca, complice del piglio decisionista, è stato capace di conquistare nuovi consensi e consolidare la sua posizione in una coalizione in cui tutti chiedevano rinnovamento, nel centro-destra è tornata in discussione l'indicazione di Stefano Caldoro, le cui quotazioni sembrano ormai in caduta libera. Le pressioni del leader della Lega Matteo Salvini sull'opportunità di schierare un rappresentante della società civile potrebbero aver sortito gli EOSID auspicati. Il centro-destra potrebbe schierare il magistrato napoletano Catello Maresca contro il governatore uscente. 48 anni, il magistrato vantaggia un'esperienza politica maturata quando era ancora un ragazzo. A 21 anni fu candidato alle elezioni comunali a San Giorgio a Cremano e venne eletto nel civico consesso. Quasi 20 anni dopo, Maresca, da magistrato, ha coordinato le operazioni che hanno portato all'arresto del boss della Camorra Michele Zaccaria, scovato all'interno di un bunker di cemento armato costruito sotto un'abitazione di casa Pesenna, dopo una latitanza di 16 anni. Già sossiduò procuratore per la direzione di settore antimafia e oggi sossiduò procuratore della Procura Generale di Napoli, Maresca vive sotto scorta per il suo ruolo di primo piano contro la Camorra. Non ha mai nascosto la sua passione per la politica in una recente intervista evidenziata. Non farò mai il politico di professione, ma se si dovessero creare le condizioni per dare un contributo da uomo delle istituzioni in un palazzo diverso da quello di giustizia, allora valuterò. Maresca sarebbe stato indicato da Salvini e avrebbe già ottenuto il lasciapassare dei fratelli d'Italia. Nelle prossime ore potrebbe presentarsi ad un confronto con il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani per il via libera definitivo. La candidatura di Maresca rappresenterebbe però l'ennesima batossa per gli azzurri. Il leader Silvio Berlusconi dovrebbe digerire non solo l'accontanamento di Caldoro, ma pure il mancato rispetto di un accordo che prevedeva in Campania un candidato indicato da Forza Italia. La candidatura di Maresca sarebbe accorti in buon grado da quella parte del partito vicino a Maracaspagna, ma potrebbe provocare la reazione dei fedelissimi di Caldoro, il quale lavorava già da leader della coalizione. Continua senza sosta e con risultati straordinari l'attività di contrasto alla commercializzazione illecita negli esercizi commerciali della provincia di Caserta, i dispositivi di protezione individuali importati prevalentemente dalla Cina, privi di idonee certificazioni circa la sicurezza e affidabilità del prodotto e riportante falsamente il marchio CE. Partendo dai controlli nei confronti di alcuni punti venditi dal dettaglio, in questi ultimi giorni i militari delle compagnie di Caserta e Marcianise sono passati ad ispezionare i grossisti che avevano rifornito quei negozi per poi presentarsi, risalendo nella filiera distributiva, agli importatori che hanno avuto i contatti diretti con i produttori intermediari cinesi. I risultati hanno confermato i sospetti iniziali, ossia che numerosi imprenditori operandi nei più disparati settori commerciali, soprattutto nell'area napoletana, hanno fiutato l'affare e si sono cimentali l'importazione di questi articoli senza preoccuparsi della qualità della certificazione di sicurezza che accompagna la merce, con il solo fine di lucrare il più possibile in momento di maggiore domanda del mercato, dovuta anche alla riapertura degli esercizi commerciali e delle imprese produttive che devono approvvigionarsi in questa specifica categoria di dispositivi di sicurezza per proteggere i propri dipendenti e rispettare gli accordi stipulati a livello centrale per la sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'emergenza sanitaria. In otto accessi ispettivi, infatti, le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente più di 1,2 milioni di mascherine per la quasi totalità classificate FFP2 KN95, ma anche 64.000 mascherine FFP3, tutte risultate prive di idonea certificazione con marchio CE contraffatto in quanto accompagnate a certificati qualitativi rilasciati da enti non accreditati, ovvero relativi ad altri prodotti o ancora completamente falsificati. In particolare, la compagnia di Marcianise ha individuato e sottoposto a sequestro quasi 900.000 mascherine facciali con marchio CE falso, partendo dallo sviluppo delle risultanze di un primo controllo eseguito nei conflui di una società per azione operante come grossista di articoli della ferramenta con sede operativa a San Marco Evangelista. Peraltro, il commerciano non si era preoccupato neanche di verificare se la merce fosse stata importata con la procedura intero che ha prevista dalla normativa emergenziale, che prevede la possibilità di importare o produrre tali dispositivi di protezione in assenza dell'ordinaria certificazione comunitaria, ma solo se si ottiene l'autorizzazione dell'istituto superiore di sanità o dell'Ineil. In realtà, il grossista ispezionato, peraltro, operà nello specifico settore dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori e quindi sicuramente, a conoscenza degli obblighi normativi che vincono alla produzione e distribuzione di questa tipologia di prodotti, ha volontariamente acquistato tali prodotti su un mercato parallelo e incontrollato per eludere le limitazioni normative vigenti e assicurarsi una ingente fornitura di merci da collocare subito sul mercato. Grazie a tutti!